3 marzo Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Primo Corinzi 10-13 Non oltre le forze. Spesso ci lamentiamo dei nostri problemi. Ci sembrano così grandi che non possiamo non sospirare e non sappiamo come fare perché ci sembra di soccombere, di essere schiacciati. I problemi, le preoccupazioni, le ansietà fanno parte della vita di ogni individuo. Ma il Signore che ci conosce perfettamente sa il peso che noi possiamo sopportare. La parola di Dio ci ricorda che il gioco di Cristo, il suo peso che dobbiamo portare è dolce e leggero, soprattutto perché Egli ci aiuta a portarlo. Quando il peso è troppo pesante e stiamo per soccombere, guardiamo al Signore e scopriremo che Lui è vicino a noi. Ha già preparato le sue vie di uscita dalla tentazione, dalle difficoltà ed è pronto ad attuare i suoi piani per soccorrerci. Crediamo e affidiamoci al Signore ed Egli per certo, per la sua misericordia, pace e sicurezza, invaderanno il nostro cuore. Allora potremmo dire Grazie Gesù perché Tu sei con noi e non ci lasci e il Tuo aiuto è la nostra forza per superare ogni difficoltà. Grazie a tutti i nostri spettatori